Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio verso le 16 e 45 lungo la provinciale 49 dell'Alta Valle Seriana, nei pressi di Sant'Alberto, frazione di Parre. Lo scontro ha coinvolto tre auto. Da una prima ricostruzione sembra che una Renault Clio diretta verso Bergamo abbia invaso per cause da accertare l'altra corsia. Prima ha urtato una Volkswagen e poi si è scontrata con una Panda che in seguito all'impatto si è ribaltata. Le due persone che erano a bordo, un uomo di 71 anni e una donna di 70, sono rimaste incastrate nell'abitacolo. Per liberarne è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Clusone e Gazzaniga. Ad avere la peggio è stato l'uomo che è stato trasportato in volo al Papa Giovanni di Bergamo dove è giunto in codice rosso. La donna che era in auto con lui è stata invece accompagnata alla Gavazzini di Bergamo con un'ambulanza del corpo volontario Presolana. Le altre tre persone ferite, il conducente della Clio e le due persone che erano a bordo della Volkswagen, sono state trasportate a Piario in codice verde con l'ambulanza della Croce Blu di Gromo. La strada è rimasta bloccata per circa un'ora e mezza e mezza.